Che cos'è l'esoterismo? Oggi parleremo proprio di questo. Io sono Alessandra Barbieri, la presidente della scuola esoterica Symbolc e cercherò di rendere chiarezza a questa materia della quale si parla tanto ma che spesso è spiegata in maniera un po' confusa o soprattutto i mezzi di comunicazione di massa la demonizzano in modo a volte anche malsano quindi cerchiamo di fare chiarezza rispetto questa materia e di capire il suo senso profondo. Che cos'è l'esoterismo? Wikipedia riporta questo significato. Atteggiamento di ossequio al principio che vieta di rivelare ai non iniziati alcune parti di un rito o di una dottrina, specialmente religiosa. Qualsiasi orientamento spirituale, rito, dottrina e conoscenza riservato a pochi eletti, da non diffondere pubblicamente. Ma perché il principio di non divulgare parti di un rito o conoscenze mistiche? Perché la conoscenza dell'uomo non segue lo spazio-tempo. Quindi non è detto che si sviluppi con la crescita dell'età anagrafica e non segue l'incarnazione. Cerchiamo di capire. Dobbiamo innanzitutto comprendere che la nostra realtà si compone di tre parti. identificazione, anche detta ego, che è legato all'incarnazione, della quale si è coscienti. L'uomo nasce, da piccolo deve essere accudito, impara a sussistere e poi svolge la sua funzione biologica, naturale fino a quando comincia il declino per arrivare alla morte, ciclo di nascita e morte. L'anima, che è legata ad una multirealtà, dove le varie vite si susseguono e coesistono o coesistono a seconda della teoria, in un ciclo di nascita, morte e rinascita. L'anima è legata ad un grande progetto, ad un gioco suo personale e collettivo. Lo spirito, che è in uno ed è eterno, esso è. Noi siamo come una matriosca di coscienza. Quando raggiungiamo il massimo di espansione di quel grado di coscienza, l'uovo energetico che ci racchiude e ci protegge, si schiude e noi ci espandiamo. Questa espansione ci fa cominciare ad entrare nella vibrazione di coscienza del secondo uovo, nella quale staremo finché non arriviamo a riempire tutto lo spazio e cominceremo a premere sul guscio successivo. Quanto ci vuole per arrivare a rompere un guscio? Anche più incarnazioni. Ecco perché l'esoterismo ha il compito di erogare la conoscenza in modo adeguato a chi la sta assorbendo. La fretta non aiuta, anzi rallenta. Ci si brucia se si va troppo oltre e si rischia di dover vivere tanto tempo in blocco riparatore. Oggi che internet ha reso disponibili tanti contenuti gratuiti e alla portata di tutti, sta accadendo proprio questo. Le persone acquisiscono informazioni senza ordine e disciplina e spesso accade che si bruciano e poi piangono e si lamentano. È un tempo fortemente indisciplinato e supponente dove tutti credono di sapere tutto. Non c'è umiltà e si vuole dimostrare di essere dai. Ma l'anima sa che punto è. Ci sono persone che entrano in una vita pronte perché arrivano avevano già rotto i gusci precedentemente. Altre che sono ancora nella fase di crescita. Non dipende dall'età anagrafica. Io credo sia giusto trasmettere certe cose solo in determinati modi e non a tutti. Perché è bene per chi le riceve. E credo che la base sia fondamentale. Noi del gruppo Symbolc, della scuola Symbolc, abbiamo voluto creare una biblioteca virtuale perché le persone potessero imparare la base. A volte però vediamo che non è stato capito. Le persone hanno veramente tanta fretta. C'è questa orribile abitudine al takeaway del tutto e subito, dello spizzicare senza approfondire. Ma sappiate che questo non agevola la crescita sana. Ve lo assicuro. Quello che noi della scuola Symbolc abbiamo fatto è la base fondamentale per poter sviluppare se stessi. Ci vuole tempo, pazienza e poi man mano che si cresce si entra in altre modalità di lavoro. Solo a quel punto si comincia a giocare veramente con l'energia, non prima. Invece le persone sono bulimiche, vanno a destra manca, si prendono pillole e poi sembrano palline da ping pong e non tengono i risultati sperati. Sappiate una cosa che è veramente importante. La prima vera dote di un maestro o di una maestra è la pazienza. Finché non l'avete sviluppata sarete allievi. Spero che la spiegazione ti sia stata chiara. Puoi seguirci sui nostri social, sul social della scuola Symbolc oppure sul mio social Alessandra Barbieri, sia YouTube che Facebook che Instagram. cercheremo sempre di darti ulteriori informazioni. Se questi video ti piacciono ti invito a iscriverti al canale e cliccare la campanella.